Ma nessuno era rimasto, cioè facevi l'evento e ciao, ci salutavo, allora adesso si prova prima a sensibilizzare per quanto riguarda il movimento, allora con quelli interessati poi puoi fare assistenza, tipo Shake Fall ha già contattato dei dottori, lui si è sbagliato Che società? Io ero con la ONLUS, è un ONLUS, sono come le ONG, sono delle organizzazioni non governative, io ero come ONLUS con il sesto continente, che è la ONLUS del movimento umanismo, ma io ero lì come appoggio del gruppo di Caterina che è una del Consiglio 236, che è uno dei consigli del movimento umanismo. E bagno oltre a questo, insieme a persone della cultura.